Iniziamo dai risultati di un sondaggio che abbiamo fatto diversi impiegati e manager riguardo alla soddisfazione lavorativa. Abbiamo raccolto le loro opinioni durante il periodo in cui molte persone lavoravano in modalità smart working, ma fa capire bene anche cosa incide sulla produttività in presenza negli uffici, l'interazione umana tra le persone e la possibilità di muoversi invece che stare fissi e inchiudati alla scrivania per lungo tempo. La situazione sta solo peggiorando, sempre connessi, senza orari, le giornate sono tutte uguali, non c'è tempo per le pause. Serve un nuovo bilanciamento di tempi, attitudini e risorse, maggiore tranquillità, dedicarsi alle passioni personali, come casa e famiglia. Ecco le vere esigenze. La nostra soluzione per ristabilire il work-life balance e mantenere un'alta produttività si chiama Serendipitempo. In pratica l'idea è quella di creare uno spazio privato aziendale che viene costruito sotto forma di subreddit, in cui colleghi e manager partecipano a diverse attività, alcuni classici ispirati da Reddit e altri completamente originali, che terminano dopo un certo periodo con una classifica, dove chi si distingue viene premiato con un badge e premi del tipo un giorno con il dirigente, una corazione gratis con un collega, un corso o un evento esperienziale, diventa tu stesso un model subreddit aziendale o qualsiasi altro riconoscimento che invoglia a partecipare. Questa soluzione si adatta in pieno alle richieste di work-life balance per creare engagement, un ambiente produttivo, offrire spunti e suggerimenti per pause di qualità divertenti, coinvolgenti e soddisfacenti e stimolare la collaborazione e una conversazione sana tra colleghi e manager, intesa come un ribilanciamento tra un contatto a volte poco presente e un contatto a volte eccessivo, condizioni che conducono entrambe a un'interazione povera di significato e stressante. I costi per implementare qualcosa del genere sono praticamente zero. Noi non vendiamo un prodotto, vendiamo l'idea. Lo spazio è facile e veloce da creare, intuitivo da utilizzare, gestibile autonomamente, attraverso un programma che calcola la classifica e può essere tranquillamente integrato in MyA, l'intranet aziendale di Angelini Industries.